Le storie riguardanti animali preistorici sopravvissuti sono famose, ma raramente sono più complesse delle semplici burle. Ma se vi dicessi che per alcune di queste ci sono delle foto d'epoca, e nemmeno una sola, che direste? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di un fenomeno particolare, perché di fenomeno si tratta, ovvero le foto di alcuni soldati assieme a pterosauri da loro abbattuti a fucilate. Prima di partire vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social, Patreon, la Wishlist, il canale Telegram dove metto tutte le news così non vi perdete eventi, conferenze, eccetera. Ho aperto anche il canale Broadcast su Instagram, quindi insomma se mi seguite lì è anche più comodo. E vi ricordo ovviamente che c'è anche il link per recuperare il mio libro, ovvero Il coccodrilo al cuore tenero. È un buon momento per recuperarselo, secondo me, perché poi magari più avanti, tra non tanto, vabbè comunque... Su internet basta cercare un paio di informazioni a riguardo per imbattersi subito in foto di pterodattili uccisi durante la guerra civile americana. Il che è interessante, perché come vi dicevo, quando si parla di animali preistorici sopravvissuti, le testimonianze sono piuttosto scarse e confuse. Avere una foto, anzi più di una, rende un po' più interessante il tutto quanto. La storia inizia il 26 aprile 1890 in Arizona. C'è un giornale locale, chiamato The Tombstone Epitaph, che pubblica la notizia di un mostro alato scoperto e ucciso nel deserto di Huachuca. Il mostro viene descritto come un grosso alligatore con una coda estremamente lunga e un immenso paio di ali. La creatura fu sorpresa da due rancieri che stavano tornando a casa. A quanto pare era esausta per il lungo volo e al momento dell'incontro non era in grado di volare se non per tratti brevi. Dopo lo shock iniziale, i due cacciano fuori i fucili Winchester. La bestia prova a controbattere, ma visto che è esausta, insomma, dopo due colpi ben piazzati, crepa. Vabbè, che cazzo mi aspettavate? Dopo essersi accertati della morte, la misurano, notando che è lunga circa 28 metri, il diametro corporeo di 127 centimetri, testa lunga 2,40 metri, fauci piene di denti forti e affidati, occhi larghi come piatti da tavola, che sappiamo essere un'unità di misura standard del sistema metrico decimale, ebbero qualche difficoltà a misurare le ali perché erano ripiegate sotto al corpo, ma dopo averne distesa una si resero conto che era lunga poco più di 23 metri, per un'apertura all'area totale di più di 48 metri. È Rodan, tipo. Le ali avevano una membrana spessa, ma quasi trasparente, e come il resto del corpo non avevano né peli né piume. Oltre alle ali c'aveva due zampotte, poste vicino a dove le ali si attaccavano al corpo. A proposito di foto, no, non gliel'hanno fatta, manco un disegnino che accompagna l'articolo, niente. E la lasciarono pure lì nel deserto, così a marcire. L'unica cosa è che pare gli tagliarono la punta di una di queste ali per portarsela a casa. Poi la sera a casa si prepararono per tornare in là a pigliare la pelle, di modo da farla esaminare agli eminenti scienziati, e la mattina seguente tornano lì, accompagnati da molti uomini importanti, anche se non si dice chi, per provare a pigliare sta strana creatura e portarla in città prima di dispellarla. Fine. A quanto pare chi erano questi eminenti scienziati che la esaminarono non si sa perché se ne sape più nulla. La storia è nota come la storia del Thunderbird di Tombstone. Infatti in Nord America c'è una tradizione riguardante la presenza di grandi uccelli rapaci, chiamati appunto Thunderbirds, uccelli del tuono. La storia dell'opterodattilo di Tombstone cade nel dimenticatoio, ma viene ripescata molti anni dopo. Nel 1963 Jack Pearl parlò di questa storia in un magazine saga, raccontando che c'era addirittura una foto che fu pubblicata nello stesso giornale nel 1886, perché un gruppo di uomini aveva effettivamente portato in città sta carcassa e dopo averla inchiodata al muro di un fenile fu scattata una foto che ritraeva sei uomini con braccia spalancate davanti all'animale per rendere evidente il confronto con l'apertura all'area. Altre riviste nel corso degli anni 60 e 70 riportano la notizia di questa foto. Pensate che uno studioso di fenomeni particolari, Ivan Sanderson, disse che c'aveva addirittura una copia di questa foto. Però l'aveva persa. E lo succede. Poi però, se uno va a guardare negli archivi del giornale originale e anche di altri del tempo, non c'è nessuna foto, né nessuna ulteriore menzione d'epoca della storia da nessuna parte. Peccato perché dei cowboy americani di fine XIX secolo, belli lezzi, intipose davanti a un pterodattilo gigante morto, inchiodata a un fenile, sarebbe stata, secondo me, che risolveva un salotto. Negli anni la ricerca di questa foto perduta diventa un argomento di discussione tra gli appassionati. Pensate che negli anni 90 c'erano persone disposte a giurare da averla vista, in vecchi giornali, vecchi libri, addirittura in programmi televisivi. Da lì, poi nient'altro di succoso, fino quasi al 2000. Anche se eravamo agli albori di internet come lo conosciamo, c'erano già cose interessanti. Nel 98, sul suo sito web, chiamato Freaky Links, un certo Derek Barnes racconta di aver trovato una foto particolare tra le pagine di un libro scadente sul paranormale degli anni 70. Perché ci sono anche libri seri, ovviamente, però questo era scadente. La foto in questione ritrae un gruppo di soldati della guerra civile americana vestiti con quella che sembra essere un uniforme nordista. La guerra civile o guerra di secessione americana si è svolta tra 1861 e 1865, perciò doveva essere di quegli anni lì. La cosa particolare è che ai loro piedi giace una strana creatura, si presuppone da loro abbattuta. Questo strano animale ha una grossa testa con un becco e delle ali membranose. E sì, sembra proprio un opterosauro. Il sito originale Freaky Links oggi è archiviato, ma la pagina relativa alla foto è ancora visibile ed è come una capsula del tempo sull'internet di fine anni 90. Eccolo qua, eh? Che dire? Capolavoro. Il buon Barnes si chiede onestamente se questa foto sia, e ve lo uscito testualmente, il più grande scoop paranormale del secolo oppure quello che lo renderà il più grande babbeo del mondo. O magari entrambe. E questo lo dice sempre lui, eh? Attenzione. Ad ogni modo dice anche che potrebbe essere un falso, ma che non ha mai pubblicato niente, che sapesse essere un falso sin dal principio. Perciò lui vuole capirci più chiaro e chiedersi che cosa ne pensano gli altri utenti del sito. Derek si mette a scavare e trova le informazioni del tombstone epigraph che vi dicevo prima. Apparentemente c'è tutto un sottobosco inesplorato di testimonianze di pterodattili durante il XIX secolo in America. E infatti col tempo vengono fuori altre foto. Un'altra famosa foto di questo tipo è questa, caratterizzata da dei toni seppia e che mostra una preda abbattuta da questi soldati ancora più imponente. O questa venuta fuori nel 2010 in cui alcune persone stanno effettivamente toccando uno di questi animali con delle ali membranose. In questa una grossa creatura sempre dalle ali così membranose giace ai piedi di alcuni uomini armati. E c'è anche questa foto in cui un animale alato è posto dietro alcune persone per farne vedere le dimensioni. Qui si vede un'altra foto nello stesso stile è comparsa su internet attorno al 2015 pterosauro più piccolo ma comunque abbastanza impressionante. E c'è anche questa che è comparsa in tempi recenti su Pinterest senza troppe spiegazioni riguardo la fonte. Il fatto che esistano più foto scattate in un range di anni non troppo elevato o giù di lì ci dice che su questi avvistamenti, abbattimenti insomma ci siano dei dati su cui far partire un'indagine. Anzitutto, si parla sempre di pterodattili e dinosauri volanti ma è giusto? C'è da dire una roba infatti la bestia della foto non è un dinosauro è uno pterosauro. Gli pterosauri erano un ordine di rettili volanti in realtà i primi vertebrati a selezionare il volo attivo per quanto ne sappiamo che non erano dinosauri. Nonostante infatti siano chiamati tali gli pterosauri sono un gruppo di rettili distinto dai dinosauri. Certo, poi facevano parte dello stesso raggruppamento di rettili gli arcosauri nel quale sono classificati dinosauri, pterosauri e anche coccodrilli quindi una parentela con i dinosauri c'è senz'altro ma sono un'altra cosa. Infatti i veri dinosauri volanti sono gli uccelli. Collettivamente gli pterosauri sono solitamente chiamati pterodattili che è un nome improprio l'ho usato anch'io all'inizio ma apposta perché pterodactilus è un genere di pterosauri in particolare è il primo descritto scientificamente e non è rappresentativo di tutto il gruppo che era molto vario. Quindi il gruppo sono gli pterosauri perché l'opterodattilo è un particolare tipo di pterosauro. Oltretutto a livello popolare quando si parla di pterodattili quello che si fa vedere è l'immagine di un opteranodonte. Pteranodon è un altro genere di pterosauri molto famoso perciò spesso tendono a sinonimizzare un po' tutto e fanno casino. Se quindi li dobbiamo chiamare collettivamente come gruppo bisogna chiamarli pterosauri perché chiamarli pterodattili sarebbe come chiamare castori l'intero ordine dei roditori cioè mica ci sono solo i castori dentro né per forza i castori ci danno idea precisa di quanto siano vari tra loro i roditori. Inoltre se vogliamo fare l'analisi dell'autenticità basata anche sull'aspetto dell'animale lo possiamo fare ci rendiamo conto subito che quegli animali non corrispondono assolutamente a quello che sappiamo degli pterosauri. In queste foto più che altro si è cercato di riprodurre l'aspetto con cui questi animali vengono purtroppo ancora concepiti a livello popolare il loro aspetto se vogliamo più iconico che però sappiamo essere piuttosto diverso da quello delle ricostruzioni aggiornate di questi animali. La nostra immagine stereotipata dagli pterosauri è probabilmente molto simile a questa insomma sono immediatamente riconoscibili come tale da chiunque perché è così che a livello popolare li abbiamo sempre rappresentati in film, cartoni animati o giocattoli insomma dei rettilacci pipistrellosi e glabri che immaginiamo facessero un casino infernale mentre ghermivano prede con i piedi artigliati come se fossero dei rapaci ecco questa descrizione magari ci è familiare ma non erano fatti così tanto per cominciare le loro ali non erano come quelle di un pipistrello i pipistrelli hanno infatti le dita allungate che sostengono un patagio una membrana di pelle che è tesa appunto tra le dita gli pterosauri ancestralmente avevano 5 dita quinto dito cioè il mignono perché la numerazione parte diciamo dal pollice al dito più interno è andato perso i primi 3 servivano per poggiarsi a terra e il quarto era incredibilmente allungato e sosteneva anche lui un patagio una membrana di pelle formando l'ala ricordate l'opterodattilo ecco opterodattilo significa dito ala quando si spostavano a terra camminavano quadrupedi in qualche caso potevano anche correre e quando vedete degli pterosauri con delle palesi ali da pipistrello capite subito che a livello di ossa qualcosa non va ecco tra l'altro loro i piedi servivano per camminare erano plantigradi come noi quindi non ghermivano neanche le prede tipo aquile in queste foto si vede proprio quello stile lì ecco che in parte è stato diciamo anche un modo di ricostruirli che in passato era scientifico effettivamente però la paleontologia è una scienza che va avanti velocemente si scoprono continuamente resti meglio conservati e quindi ecco si aggiorna anche un po' l'immagine che abbiamo di questi animali ovviamente non è che si possono avere tutte le risposte purtroppo riguardo l'aspetto fisico degli animali estinti però un'idea un pochino più completa tra virgolette per modo di dire e aggiornata sugli pterosauri ce la siamo fatta e quello che gli manca a questi pterosauri che vediamo in queste foto sono le picnofibre che sono sostanzialmente una sorta di tegumento filamentoso che ricopriva il corpo di questi animali quindi non dovevano essere glabri dovevano essere pelosi piumosi perché in effetti le picnofibre potrebbero essere comunque omologhe alle piume dei dinosauri quindi forse erano già presenti nell'ultimo antenato comune tra dinosauri e pterosauri addirittura quindi comunque un tratto piuttosto ancestrale e di base dovevano averlo tutti gli pterosauri e banalmente anche senza andare sull'aspetto esteriore che noi non conosciamo cioè noi abbiamo degli scherzi completi di pteranodonti e se guardiamo come sono fatti a livello di forma della testa dimensione eccetera quegli animali lì sono completamente diversi ma c'è un po' di strati ancora da è interessante partiamo dalla foto di Derek Banz postata sul sito Freaky Links ricordiamoci di questi due nomi allora dall'ottobre del 2000 al giugno del 2001 andò in onda in America una serie di fantascienza chiamata Freaky Links 13 episodi e prodotti da Greg Hale che aveva prodotto tra l'altro il famoso The Blade Witch Project la trama di questa serie è la seguente c'è un nerd appassionato di misteri che ha un sito internet che usa per raccogliere testimonianze di eventi strani che poi si mette a investigare episodio 4 testimonianze di attacchi fatti alle persone da una non identificata bestia volante il protagonista quindi si mette ad investigare perché crede che sia un terosauro sopravvissuto trova addirittura una foto in cui ci sono dei soldati della guerra di secessione con lo terosauro morto abbattuto non so se vi dice no qualcosa ah cosa importante il protagonista il personaggio protagonista della serie si chiama Derek Barnes e il suo sito si chiama Tricky Links la prima foto era stata pubblicata sul sito nel 98 due anni prima dello show di modo da fare hype oggi diremmo tra l'altro il modello dell'opterosauro perché di modello si tratta è stato anche usato come oggetto di scena durante lo show a quanto ho capito e sapete che fine ha fatto? allora oggi è nel museo internazionale di criptozoologia di Loren Coleman a Portland nel Maine il museo è lì ma nel 2025 si sposterà a Bangor che è tipo dall'altra parte degli Stati Uniti comunque eccolo qua guardalo è bellissimo c'ha pure la linguina di fuori un bijou la foto oltretutto ritrae quelli che sembrano dei pensionati appassionati di rievocazione storica più che dei soldati della guerra civile americana infatti hanno una certa età sono ben pasciuti con la divisina bella pulita in realtà il soldato medio della guerra civile americana solitamente era un 19enne sporco secco come un fuscello e che come si dice tra ogni parte reggeva l'anima codente un po' diverso la seconda invece che a frutto di manipolazione con un qualche software non c'era nel sito internet ma compare addirittura nella serie che vi dicevo prima come si può vedere da questo screen e la puntata tra l'altro è visibile su youtube e come voleva si dimostrare dell'opterosaro non si vede praticamente niente come mai non hanno usato la stessa foto il primo motivo è che la prima foto non era particolarmente impressionante e il secondo è che ci furono problemi nel reperire i diritti di immagine degli attori della prima foto che erano necessari per lo show dal momento che le loro facce comparivano sullo schermo e quindi la produzione commissionò una seconda immagine con dei nuovi attori che è quella che poi effettivamente comparve sullo schermo con l'opterosaurone ha pioppato lì in digitale pensate che è stato solo nel 2018 in una puntata della serie di podcast Skeptoid che è stata raccontata in modo dettagliato la lore di questa storia quindi tutte le altre foto che vi ho fatto vedere erano o tentativi di riprodurre una presunta foto andata perduta o delle trovate pubblicitarie che magari sfruttando la storiella di partenza volevano suscitare un po' di clamore su internet o anche al di fuori probabilmente già l'articoletto originale del 1860 era una trovata per attirare turisti tant'è che i giornali rivali del tombstone epigraph non ne fecero alcuna menzione eppure insomma come notizia voglio dire il suo scarpone l'avrebbe fatto se fosse stava vera la rivista su cui scrisse Pearl nel 63 poi era un magazine pulp per uomini in cui c'erano storie scioccanti truculente ose volutamente esagerate e quasi sempre inventate di sana pianta è un genere che in passato andava e che aveva le sue perle parlando di animali una volta se ne potrebbe anche parlare altra cosa curiosa quando iniziarono a dire in diversi che avevano visto la foto dell'uccellaccio a dagli aperte e prima che effettivamente si andasse a controllare la fonte e si setacciassero gli archivi del giornale non trovando niente diverse persone dissero ah sì è vero l'ho vista anch'io quindi ci fu una sorta di effetto Mandela su questa foto dell'opterosaura che colpì un botto di gente le quali descrivevano la foto inesistente tutte nello stesso modo con i cowboy davanti all'opterosaura eccetera eccetera e la colpa probabilmente è proprio dell'articolo del 63 che per la prima volta descrive senza farla vedere questa fantomatica foto di per sé appunto molto scenica e che quindi anche se non esisteva fu resa molto familiare quindi un vero e proprio falso ricordo di massa su una foto che non è mai esistita e secondo Karl Schuker quello che innescò la nascita di questo falso ricordo oltre ovviamente a una dosi di amore per il mistero degli animali preistorici sopravvissuti e alla resumazione di una vecchia storiella caduta nel dimenticatoio potrebbe essere stata questa foto qua in cui alcune persone tengono in piedi un marabù morto che è comparsa nel 72 nel libro del Guinness dei Primati quindi un libro a larga diffusione e che al tempo era secondo per quanto riguarda le vendite solo alla Bibbia questa foto infatti incarna una serie di caratteristiche che si suppone fossero presenti nella finta foto perduta grande apertura alare persone per fare la scala lungo becco eccetera e non è nemmeno l'unica foto di un marabù tenuto in questa posa ce n'è anche un'altra pubblicata nel 1910 in un libro chiamato The Big Game of Africa per dire il vero già nel 1995 su Strange Magazine Karl Schuker commentò una foto mandata da un certo Alan G questa foto è un pasticcio diciamo ecco non c'è modo di definire un altro modo che fa vedere questo pteranodonte poco convincente a questo becco corto invece sappiamo che il becco era molto lungo quindi vabbè metteteci dentro anche altre inaccuratezze anatomiche e il fatto che era palesemente copia e incolla di una foto che ritraveva un modello di pteranodonte che seppur errato era stato visto da tante persone perché era presente in un'enciclopedia a volumi chiamata The Unexplained e il dubbio che ci possa essere qualcosa sotto ti viene questa foto ugualmente è falsa e l'hanno fatta a partire da questo modello 3D che credo sia della casa editrice Dorling Kindersley che è comparso in un sacco di libri sugli animali preistorici con ricostruzioni in 3D questa invece boh semplicemente le ali di un pterosauro non sono fatte in quel modo le dita sono messe diversamente quelle ecco sono le ali di un pipistrello Karl Schuker stesso a cui è stata sottoposta nel 2020 ha trovato anche la foto originale del pipistrello e anche quella originale del fienile che pare essere comparsa in internet nel 2010 quindi è un pasticcio su photoshop per questa foto invece la base è vera esiste una versione in cui ci sono solo i cacciatori che risale più o meno agli anni 30 quello che chi ha creato questo fotomontaggio ha fatto è stato semplicemente pigliare questa foto vera e a piopparci lì l'opteranodonte e l'opteranodonte perché ha usato probabilmente un kit da montare della Ravel che è una nota marca di modellismo infatti se guardate la posa è veramente identica riguardo questa vabbè delle ali del pipistrello l'abbiamo già parlato però la cosa differente è che questo è un falso dichiarato perché il suo creatore Chris Smith ha confezionato questo fotomontaggio per divertirsi a ricreare la famosa foto scomparsa solo che ovviamente lui dichiaratamente diceva che era una ristruzione così per burla per divertirsi solo è stata ricondivisa tante volte senza la fonte spacciata per vera eccetera eccetera e poi c'è questa che è stata fatta a partire da una foto vera pure questa in cui alcuni uomini hanno catturato il rapinatore di treni John Sontag che giace ferito davanti a loro semplicemente lo hanno sostituito con qualcosa di vagamente simile a un opterosauro e hanno scambiato di posto alcuni presenti nulla più tra l'altro cosa strana si parla sempre dell'opterosauro sopravvissuto ma non ci si rende conto di una cosa importante se fosse effettivamente un opterosauro non sarebbe un sopravvissuto perché sennò vorrebbe dire che è minimo a 66 milioni d'anni è un animale a 66 milioni di anni mi pare un po' troppo forse se mai ne dovrebbe essere sopravvissuta una popolazione intera che ovviamente non rimanendo immutata dal cretacico a ora cosa che viene data per buona ma non ha senso sarebbe rimasta comunque abbastanza numerosa da arrivare fino ad oggi il cielo però viene scrutato continuamente ogni giorno dovunque dagli ornitologi siano essi professionisti o materiali quindi dubito che una popolazione di bestie volanti con un'apertura all'aria di 7 metri sarebbe passata inosservata per secoli e questa storia tra l'altro è stata sfruttata anche da chi sostiene che gli animali preistorici siano ancora vivi e siano la prova della creazione attenzione perché Dio ha creato anche loro e poi si sono estinti perciò alla base delle leggende dei thunderbirds ci sono gli pterosauri sopravvissuti sì lo so di solito i creazionisti sono famosi per non credere ai dinosauri oppure crederci ma dire che sono morti nel diluoro universale ma appunto ci sono tanti modi in realtà di essere creazionisti e in effetti diversi sostenitori dell'età giovane della terra hanno sfruttato l'occasione per parlare anche degli pterosauri sopravvissuti ma questo ve lo spiega meglio Lorenzo ciao Willy in effetti secondo i sostenitori dell'idea di pterosauri vaganti per i cieli degli Stati Uniti esisterebbero altre prove oltre all'episodio di Tombstone del 1890 simili creature sarebbero state infatti documentate dai nativi nella loro arte rupestre dimostrando così che esseri umani e antichi rettili volanti hanno realmente convissuto vediamo due casi abbastanza curiosi il primo risale all'agosto del 1673 quando il gesuita francese Jacques Marquette si imbatte in un mostro spaventoso mentre stava esplorando il fiume Mississippi lungo 9 metri e alto 3 metri e mezzo era interamente ricoperto da squame e possedeva una testa munita di corna e una lunga coda che faceva un giro attorno al corpo e terminava con protuberanze simili alle pinne di un pesce non si trattava però di un essere in carne e ossa ma di quello che restava di un petroglifo che qualcuno aveva dipinto a oltre 20 metri di altezza su di un costone roccioso del fiume l'opera originale purtroppo non è arrivata sino a noi in quanto la parete crollò in seguito a lavori di estrazione di una cava ma le informazioni contenute negli appunti dell'epoca permisero negli anni 90 di ricrearne una copia in un punto non troppo lontano da quello in cui era presente la versione originale ma chi aveva realizzato il primo dipinto e che cosa rappresentava secondo John Russell insegnante di greco e latino che nel 1836 pubblicò un articolo dal titolo The Tradition o The Paiasa i nativi liniwek raccontavano di un temuto uccello che divora gli esseri umani conosciuto appunto con il nome di Paiasa le leggende raccontano che questo animale viveva in una grotta e che fu ucciso utilizzando frecce avvelenate in seguito nel 1887 quindi tre anni prima dei fatti di Tombstone lo storico creazionista Perry Armstrong pubblicò un libro nel quale suggeriva che questa creatura poteva rappresentare il ricordo dei nativi della passata presenza di pterosauri sopravvissuti più precisamente di Ranforinchi caratterizzati da una lunga coda c'è però un problema di fondo il Paiasa in realtà non esiste e non intendo come creatura in carne e ossa ma anche come figura mitologica John Russell confessò infatti di essersi inventato tutta la storia sull'uccello mangiatore di uomini e Jacques Marquette nelle sue descrizioni non parla affatto della presenza di ali le quali furono aggiunte soltanto in seguito nelle ricostruzioni più moderne il petroglifo però molto probabilmente è realmente esistito ma è anche probabile che raffigurasse un'altra creatura del folklore nativo conosciuta come pantera o lince d'acqua che possiede corna sulla testa e una lunga coda ma non delle ali esiste poi un altro petroglifo molto interessante che a prima vista non sfigurerebbe in un film delle Monsterverse e che si trova nel Black Dragon Canyon stato dello Utah risalente a circa il mille dopo Cristo fu scoperto nel 1928 e sembra mostrare un maestoso pterosauro ad ali spiegate con tanto di cresta sulla testa ecco come è visibile oggi mentre qui possiamo vederlo con un contrasto maggiore per osservarne meglio la forma visto che il dipinto si trova in una zona in cui sono stati rinvenuti i fossili di pterosauri verso la fine degli anni 90 i creazionisti della Young Earth secondo cui la terra ha da 6.000 ai 10.000 anni iniziarono a proporre che raffigurasse un Quetzalcoatlus Northropi il più grande pterosauro conosciuto con un'apertura all'area di oltre 10 metri certo l'immagine è evocativa ma la verità è che nel 1947 un certo John Simonson tracciò con un gesso rosso i contorni di quello che aveva ritenuto essere un unico petroglifo pratica che un tempo era piuttosto comune e che ora è diventato illegale comunque nel 2015 il chimico e archeologo Marvin Rowe analizzò l'immagine attraverso due strumenti della tecnologia moderna una pistola a raggi X in grado di misurare il contenuto di ferro nei pigmenti di ocra e capire così in quali punti della roccia rappresenta il colore dei disegni originali e in quali invece il gesso rosso aggiunto da Simonson e un programma chiamato D-Stretch in grado di rendere più nitidi i colori e contorni delle opere d'arte rupestre il risultato è che l'opterosauro dello Utah era in realtà una combinazione di 5 diverse figure rappresentanti una pecora un cane due persone e un essere simile a un serpente va poi aggiunto che anche la cultura popolare recente può aver influenzato la moda degli pterosauri americani ma per questo Willy ti lascio la parola ciao inoltre non si può non citare il possibile ruolo che potrebbe aver avuto la fantascienza e in particolare i film di mostri giganti nell'appassionare a questi temi in quegli anni il cinema pullulava di bestie giganti simili basti pensare a King Kong del 33 uscito in un periodo in cui ancora si riteneva possibile la scoperta di ecosistemi preistorici rimasti isolati o anche Rodan del 1956 o il mostro dei cieli dell'anno dopo quello ragazzi è un capolavoro imperdibile eh o ancora la vendetta di guangi del 69 curiosità Ray Riausen che ha animato molti mostri memorabili raccontava di come una volta un bambino di 4 anni lo abbia corretto dicendoli che la forma dell'ala degli pterosauri la faceva sbagliata perché non aveva le ali a pepistrello lui gli disse sì lo so solo che in quel modo i pupazzi erano più facili da animare e a livello emotivo erano più drammatiche le ali a pepistrello anche per via di questi titoli le persone avevano familiarità con la forma dell'opterosauro fatta a pepistrellaccio cose semili succedono basti pensare a quante storie riguardo a cospirazioni governative e alieni sono venuti fuori negli anni 90 dopo che X-Files è diventata una serie di successo ah e c'è anche questa tra l'altro come foto che mostra un ranforincus un genere di pterosauri giurassico ovviamente un ranforinco non è fatto così ma vabbè comunque sappiate che l'argomento pterosauri sopravvissuti è molto più lungo e complesso di così quindi faccio giusto per dirvelo e quindi questo è il discorso foso degli pterosauri ovviamente vi dicevo il discorso pterosauri sopravvissuti è lungo e complesso non escludo più in qua perché poi parlerò di altre cose però più in qua magari lo riprendiamo ovviamente ringrazio un sacco Lorenzo che ha partecipato a questo video vi lascio ovviamente nella schermata finale insomma giù in descrizione il link dei suoi social mi raccomando seguiteli guardate i video che fa sono super super fighi i video di Lorenzo e niente se conoscevate questa storia se avete apprezzato questa trattazione fatemelo sapere nei commenti mettete mi piace insomma solite robe condividete il video aiutatemi a farlo girare tutte e tutte cose niente vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social iscrivetevi mettete la campanellina canale broadcast su instagram per non perdervi tutti quanti gli eventi cucco di video al corretello del mio libro che parla di cure parentali trovate tutto in descrizione ci vediamo prossimamente e statemi bene ciao 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 ciao